ragazzi ragazzi per carità io penso che la qualificazione del napoli qualora dovesse finire così la partita sia comunque abbastanza sicura sì magari non puoi preambire al primo posto però sicuramente puoi ancora tranquillamente arrivare secondo nel girone il discorso è che al san paolo maradona contro questo union berlino che arrivano un sacco di sconfitti di fila tu devi fare il tuo e vincere e quando sei solo 1 a 0 e prendi un gol del genere e quel gol del genere non lo puoi prendere perché non lo puoi prendere non va bene ragazzi non va bene questo vede qua tu le devi vincere e basta cioè invece il napoli si è fatto poi fregare dalla fuffa nana nel secondo tempo dove pareggia i conti io vi ripeto ragazzi stasera giocherà al madrid braga il braga ha tre punti il napoli con questo pareggio andrebbe a 7 sono quattro punti di differenza sono tanti però occhio perché poi napoli deve andare ancora madrid e poi c'è una braga in casa quindi ripeto per me napoli si deve suicidare per non passare questo girone però ripeto ragazzi ripeto per me prendere un gol del genere non è ammissibile perché ci sta che tu voglia fare il 2 a 0 perché una cosa che chiedo anche io spesso alla Juventus di Allegri di chiudere le partite di massacrarle però con intelligenza devi massacrare le partite tu se sei solo 1 a 0 che comunque stai già vincendo non puoi come posso dire sbilanciarti così tanto e prendere un contropiede stupido che poi ti costa al gol perché evidentemente parlando quel contropiede lì ti costa al gol se stai vincendo quindi non è che devi sbilanciare così tanto per trovare il vantaggio perché sei solo sul pareggio no tu stai già vincendo quindi va bene segnare ma però deve esserci diciamo comunque una specie di di modi di ordine no in campo invece l'ultimo uomo era lo botca lo botca contro due tramite un lancio lungo disattenzione assurda disorganizzazione assurda sul gol subito del Napoli però ripeto mancano ancora due minuti più del cupolo magari il Napoli adesso ci trova gol del 2 a 1 e ci sta ci distisce tutti quanti io primo tempo ragazzi c'è da dire che ho visto sicuramente ma è molto meglio il Napoli se non sbaglio nell'Unione Berlino c'è stato un tiro di Becker centrale è un altro tiro centrale di un altro giocatore del dell'Unione Berlino quindi niente di che ragazzi gli utili centrali dove Melletle fa le sue parate tranquillamente invece invece il Napoli ha avuto le sue occasioni raccomani di testa Zielischi che tramite una spazzata dell'Unione Berlino che prende un compagno la palla rimane lì e con quel controllo a seguire col collo esterno bellissimo Zielischi tira col destro fortissimo il portiere dell'Unione Berlino fa un'ottima parata perché alza questo braccio la manda in calcio d'angolo c'è stato comunque anche il palo di Nathan il gol annullato che è giusto annullare il sa perché la torre di Di Lorenzo è fallo perché Di Lorenzo si appoggia completamente con entrambe le braccia sulle spalle del giocatore dell'Unione Berlino non lo fa praticamente saltare quindi giusto annullare ripeto il gol il gol del vantaggio però poi ragazzi arriva il gol di Politano che comunque quest'anno è un gran giocatore quest'anno è in fiducia quest'anno fa la differenza al Napoli poi si è anche un po' fortunoso perché si trova quella palla sulla spalla che poi in qualche modo gli imbalza addosso e la butta in porta però l'azione è molto bella Acvara che poi allarga per Napolitano che poi allarga per Mario Lui Politano segue l'azione Mario Lui mette questa palla dentro il centro deviazione il difensore di Lorenzo Berlino che fa alzare questo pallone la palla va qua sulla clavicola sulla spalla di Politano che la butta in rete e lì Napoli va avanti sul 1-0 nel secondo tempo però ripeto Napoli era in gestione stava cercando a tutti i costi il secondo gol e poi aveva questo contropiede qua sbilanciatissimo Napoli non capisco ancora il perché lancio lungo per Becker che poi c'è per scusate per Fofana che poi la dà Becker Becker tira di prima intenzione col destro un destro a giro dove Peret fa una grande parata però poi sul tappo invincente c'è comunque Fofana che col piattone ragazzi praticamente la butta dentro tra l'altro l'Union Berlino ha preso un palo a fine primo tempo proprio all'ultimo su quel calcio di punizione di Uranovic adesso non mi ricordo chi l'ha preso però un palo anche l'Union Berlino su calcio di punizione lo ha preso quindi pericoloso da quel punto di vista adesso contropiede l'Union Berlino ragazzi che ha fatto un tiro fuori dalla porta però l'Union Berlino ragazzi sta provando a trovare il vantaggio paradossalmente il Napoli ha avuto una grandissima altra occasione secondo me nel secondo tempo col colpo di testa di Rachmani ancora Rachmani che questa palla poi scende anche e sembra l'impressione che alla fine poteva essere quasi pericoloso come tiro Rasparoli ci ha provato anche lui nel secondo tempo un tiro strozzato che però non ha trovato diciamo una dendia conclusione e per il resto un Napoli che con Kvara sta provando anche a fare qualche contropiede Kvara che in un'occasione ha tirato tiro centrale e lì poteva seguire Simeone da subentrato che era messo meglio secondo me anche Simeone comunque a un certo punto su un calcio d'angolo se non sbaglio va incontro al pallone di testa in tuffo prova a inquadrare la porta a porta che alla fine non inquadra ha andato 7 minuti di recupero e mentre parlo ragazzi ne sono già passati 2.30 quindi c'è ancora tempo c'è ancora tempo è ovvio che se il Napoli ti va a vincere stasera ragazzi praticamente se il Braga questa sera non vince a Madrid il Napoli è già qualificato secondo prima non importa se tu vincevi ora e il Braga stasera non vinceva col Madrid perché è possibile se sei comunque contro la Madrid la Madrid può vincere non può non vincere il Braga sicuramente è più bravere che perda se tu vinci sta qua con l'Union Berlino tu sei già qualificato sei già qualificato quindi è fondamentale trovare il gol adesso in questi minuti di recupero ne mancano ancora 4 di minuti sarebbe fondamentale per il Napoli avere comunque già la qualificazione in tasca con due giornate in anticipo perché poi magari certe scelte, certi titolari te li risparmi in Champions perché comunque sei già qualificato e magari li fa giocare di più in campionato e in Champions dà spazio magari a meno minuti nelle gambe capite anche il mio concetto cosa vi dico per me è importante se tu ti qualifico con due turni in anticipo meno forze comunque di titolari li puoi impiegare nelle prossime due e invece così ripeto secondo me Napoli l'ha buttata questa perché l'Union Berlino era l'ultimo in classifica sta facendo il primo punto di questo girone proprio contro il Napoli ma non è che sei in Germania che ancora ancora in Germania gli ci ci può stare cioè sei in casa tua in casa tua tu devi fare bottino pieno ripeto e magari lo farà perché adesso magari il Napoli troverà il gol però sono quelle dormite che questo Napoli di Rudi Garcia ci ha già mostrato e dimostrato una squadra che sembra mantenere pienamente il palino del gioco il controllo della partita poi c'è quel momento in cui si addormenta si spegne la luce si spegne la miccia e boh prendi questi gol assurdi e strani dove dici ma come cazzo ho fatto Piero Ungor del genere infatti è così ragazzi infatti è così non ho ancora capito Napoli come mai era così sbilanciato nell'1-0 non ho capito proprio comunque adesso l'Unione Berlina addirittura è barricata in difesa vogliono prendersi questo punto anche se ovviamente per l'Unione Berlina ormai la qualificazione in Champions è andata è un punto che comunque serve perché se il Braga stasera perde magari l'Unione Berlina se si riprende può avere la possibilità di giocarsi l'Europa League quindi per loro è un punto importante magari da quel punto di vista però ragazzi ripeto speravo in un Napoli un po' più furbo da questo punto di vista però ecco la leva il gol adesso no ragazzi Kvaraschelia girata in aria di rigore che palle queste mosche ma a Gemara c'è proprio l'invasione delle mosche girata in aria di rigore di Kvaraschelia centrale però quindi il portiere fa la sua parata su Nathan Nathan fa la spona di testa Kvaraschelia si gira ma la para il portiere ragazzi io direi che il video può finire qua manca ormai poco se ci fossero degli aggiornamenti o degli sviluppi vi aggiornerò sicuramente nel titolo perché manca ormai molto e mezzo io intanto direi che il video può finire qua quindi se vi è piaciuto lasciate un bel like mi raccomando commentate e chiedete i commenti e fatevi sapere un po' voi cosa mi è piaciuta appunto di questo video tra appunto Unione Berlino e Napoli ti bravo a sapere tutti i commenti e soprattutto grazie anche se vi è piaciuto lì iscrizione al canale che fuori a metà non costa nulla e per me vi ho dato il vostro supporto ma se fate qui così iscriviti e se siete iscriviti fate un ringrazio di cuore condividete anche il video con i vostri amici anche loro e accedete a campione delle notifiche così non perdete i prossimi video che usciranno in descrizione trovate anche il link della barra di questi channel e trovate anche il link degli altri miei pubblici social twitter, facebook, tiktok eccetera quindi se avete piacere ragazzi di seguirmi anche lì io ricambio ricambio poi il segui se vi conosco qui abbiamo anche tutto ragazzi bella grazie a tutti